Ciao a tutti ragazzi, io sono Svortex e qua siamo di nuovo su Unturned con un'altra patch solo che mi sono reso conto che è inutile tutte le volte fare un patch notes perché alla fine ho sentito dei rumor che dicono che Nelson Sexton farà delle patch daily, cioè ogni giorno quindi dato che non posso tenere a testa questa cosa per la connessione perché è praticamente impossibile caricare un video il giorno e tipo non so il 2 adatta caso esce la patch e io il 2 rilascio il video della patch notes è impossibile perché non ho la connessione, non ho la fibra ottica quindi non posso fare queste cose al massimo posso rilasciarla il giorno dopo il video ma il giorno dopo ci sarebbe un'altra patch quindi è praticamente inutile fare questi video se non, se li faccio, li faccio per delle patch grandi grandi inteso importanti come avete potuto notare qui è tutto oro oro e oro perché? Perché ho deciso di di dare il mio contributo a questo gioco anche no, ho deciso di dare il mio contributo a Nelson perché mi sembra giusto così ecco, io non sono una persona che spende tanti soldi però se c'è da riconoscere qualcosa ecco, se lo posso fare lo faccio e poi sono 5 euro anzi, erano anche di meno perché avevo qualcosa nel portafoglio steam che avevo venduto con le carte quindi cioè, è costato anche meno di 5 euro però a lui gli arrivano a 5 euro e sono contento è una scemata alla fine non mi serve a niente però comunque ok, allora sinceramente non mi ricordo ah, sì, dovevamo ok, allora uccido quello zombie là sto provando a registrare con un programma diverso quindi se magari l'audio è diverso non lo so queste cose qua è per quello ragazzi quindi non vi preoccupate che se non va bene di certo lo cambierò subito dopo cioè subito la volta dopo ok tutti vestiti allo stesso modo giusto a me oh no anch'io sono vestito così oddio il nome è bello il nome è oro sleeping bag e vai cazzo però non c'ho slot aspetta un attimo un secondito uh l'uzzi oddio l'uzzi non l'ho mai trovato finora è la prima volta però aspetta prima dovevo allora bello qua dentro non c'è niente bayonet si l'ho vista la cantine però non credo serva molto averne due cioè i binoculars forse invece servono però io sono troppo pieno cioè qualcosa non va allora io questo non l'ho ancora mmm 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 quest'arma è figa cioè si è figa è un'arma figa io non so come si fa l'obiettivo dei chess sinceramente c'è un mio amico che l'ha fatto subito ma io non ho capito come e non l'ha capito neanche lui perché era molto random la cosa scusa control e click non era no era shift e click no non lo so mi curo giusto per sprecare un po' di cose nell'inventario tanto danno 5 rag quindi dovrei averli finiti si ci prendiamo i binocular mi prude allora ok oh energy drink cavolo ce lo teniamo a fare abbiamo la canteen qua non c'è niente allora cosa che devo prendere l'uzzi l'uzzi no 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 allora spe panico panico oddio oddio sono un ninja aspetta vai oh mio dio aspetta come cazzo anzi aspetta questa la posso craftare craft ah ah giusto aspetta faccio direttamente rag che userò immediatamente ok aia qui qualcuno mi dice che master swag is on come no space perchè no space ah perchè giustamente ok questi si potevano certo che si possono ok li uso e prendo l'uzzi guarda che roba pam questi ce li ho no però yuri magazine ma che cazzo ma non l'ho preso ma sono stupido mi sembrava di averlo preso allora cosa che posso gettare devo gettare qualcosa ma canna e cola ma allora anch'io sono stupidissimo cioè a cosa mi serve ok slug non credo mi servano vado a dare un'occhiata là sotto cioè qua nei paraggi là c'è una città non mi ricordo se ci sono già state il brutto è quello là c'è la la torre non mi ricordo la mappa non mi ricordo più la mappa sinceramente però ah no ok ok ora mi ricordo forse intanto lì non ci sono andato a vedere magari c'era qualcosa di interessante no duct tape ok non c'ho voglia di camminare anzi dov'è e lasciami riparare la macchina ok intanto qua dovrebbe esserci ecco la mia macchina là appunto bitch bitch cacchio già è già rotta allora continuiamo per questa strada alla ricerca di non mi ricordo cosa volevamo cosa stavamo cercando però vabbè sì dai oddio sta macchina è velocissima madonna allora io vengo di qua aspetta qua c'è l'aeroporto mi sa non proprio qua però aspetta faccio piazza pulita curvo se giro di là c'è la la cosa l'aeroporto tipo non mi ricordo precisamente se è l'aeroporto o la base militare credo l'aeroporto però ok quella è chiusa quella è barricata qui invece si può luttare ancora qualcosa no swift magazine non mi serve questi neanche il butcher knife non mi serve e niente ragazzi qua si lutta si lutta fino all'infinito praticamente can vuota io i civilian bullets non ho ancora capito se servono per la pistola o per altro che alla fine moldi can ah qua è dove avevo iniziato il primo il primissimo gameplay si ero arrivato da là credo si ero arrivato da là e poi sono no non sono morto però allora ho guardato quella casa ho guardato questa adesso guardo questa finisco la via poi giro a destra la nella cosa a destra che dovrebbe esserci ehm come ho detto l'aeroporto o eh la base militare però credo più l'aeroporto allora questi due uno e due beh è fighissima la katana niente da dire eh bonjour clip no non mi serve cloth no cioè non posso averli ehm io ho un po' di sfiga per quanto riguarda no qua ci sono già andato eh di lì ci sono appena andato ora guardo qua ho un po' di sfiga come per quanto riguarda le gli zaini non ne ho ancora avuto uno potente uno non posso aprirlo uno di quelli rari diciamo allora Swift Magazine duct tape che non ho ancora capito sinceramente cosa serve aspetta ok non so cosa serve il duct tape sinceramente devo devo guardare e giustamente informarmi perché non ho ancora capito il soluto bonjour clip niente ok andiamo a dare un'occhiata la sotto che sicuramente c'è qualcosa ah c'è la spiaggetta si ok ah se ve lo stareste chiedendo sto registrando con Dictory anche se comunque fa dei file enormemente giganti fatto sta che registra bene il mio audio in game non so perché io gli altri episodi li ho registrati con Bandicam che è perfetto cioè non fa laggare ed è la cosa principale praticamente registra il file con due audio separati ed è un'altra cosa buona ma la parte dell'audio cioè la traccia audio di Windows ovvero il suono di del gioco diciamo la registra con un audio estremamente basso non ho capito perché anche se io lo sento perfettamente quello che penso io magari mi sbaglio è che registra l'audio di Windows e non e non registra l'audio delle cuffie cioè magari cambia la cosa non lo so io dato che dato che non lo so sto solo pensando sto cercando di arrivarci con un ragionamento semi logico ma se no non ha senso perché io quando registro con Bandicam io l'audio lo sento ok tipo adesso io lo sento benissimo poi vado a vedere in video e l'audio è bassissimo però non ha senso perché io in game lo sentivo ecco l'unico problema è quello per me e poi i file size che mi danno fastidio un sacco infatti Dixory lo odio slash lo amo perché comunque è comodo e credo sia il migliore per ora solo che non puoi per 49 secondi di video farmi un giga e 60 cioè come cazzo è possibile che uno riesce a renderizzare un video così lo puoi fare ma comunque anche dopo che l'hai renderizzato avrai tipo giga e giga di video cioè da fastidio dovrebbero dovrebbero un attimo avere un attimo più di come si chiama compressione che se no cioè il codec di bandicam è perfetto solo che non lo posso usare con Dixory non so perché allora quella non la uccido per un semplice motivo che non mi serve semplice bam bam c'è una macchina rosa si è l'aeroporto questo ok mi segue qualcuno no no oddio questo zombie si si qua si trovano di solito delle belle cose cioè ci sono andate solo una volta però di solito è tipo l'outfield però usa delle munizioni stronze non lo so perché usa le munizioni bonjour cioè bonjour clip lì come si chiama uh questo qua era un badass sandbags che non servono military bullets che servo mi servono a me per questo fucile qua per lo swift che per allora dato che ho fame mangio così almeno magari mi passa anche un po' la cioè no mi libero uno slot volevo dire e mi prendo queste munizioni cioè ho triggerato quello zombie la prima boom vitamine c'è un po' di pulizia qua ok ok non ho triggerato nessuno allora capiamo un attimo la colt posso anche usarla in questo momento perché tanto non c'è nessuno cioè nel senso non devo fare in stealth non sono non devo andare in stealth quindi tanto tanto vale il brutto che devo usare due colpi per uccidere uno zombie l'unica cosa è quella ok cazzo però triggerà un sacco la pistola cioè comunque un'arma madonna ho aggrato tutti quelli in quella building non me l'aspettavo lì c'è un mini bug tra l'altro o no no credo sia fatto così allora lì vedo una cos'è una coca cola credo sì allora velocemente io faccio così e poi riraccolgo questo per massimizzare il loot qui io non lo so perché ha fatto questa di questo colore le texture sembra sembra quasi vuoto che non ci puoi entrare invece poi allora questo è una tazza coyote pack fa cacare moldy bottle water non mi serve chiaramente qui ci sono degli slug che non mi servono lift magazine e non mi serve neanche quello a posto possiamo anzi adesso guardiamo un attimo com'era la situazione allora noi lo dobbiamo andare laggiù in fondo come si faceva così poi andiamo a dare un'occhiata anche là perché so che c'è un po' di loot vabbè noi ci andiamo per sicurezza voglio ho sentito che qui vi do un attimo un'informazione riservata no non è vero però ho sentito che vuole vuole allargare la mappa di tanto cioè vuole vuole espanderla un sacco tanto da poter essere possibile usare appunto gli aeroplani gli elicotteri eccetera eccetera ecco perché appunto vuole vuole allargarla allora shells non mi serve quello perché ha rispawnato lì ok non fa niente perché è già morto army fatigious non mi serve quello della spalla ok quello ha rispawnato boh bam col colpo potenziato l'ho shotto ma col colpo semplice no vabbè tanto non sono un problema con la violenza l'ho ucciso quello anche questo bam allora qua dietro c'era sempre qualcosa cioè c'era sempre qualcosa avevo trovato qualcosa non c'è adesso ok qua niente qua niente